Ciao a tutti! Oggi vi mostreremo come montare la panna con il bimbi. Andiamo a inserire all'interno del boccale la farfalla. Versiamo la panna. Chiudiamo con il coperchio. E' fondamentale non inserire il misurino, perché la panna deve incorporare aria. Andiamo a mettere 3 minuti. A velocità 3. La panna è pronta. Panna montata. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie. 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 Grazie.